Quarto e penultimo punto, se noi accettiamo questa filosofia bisogna anche accettare l'idea di fondo che è quella della autonomia. È una parola che risale ai tempi della riforma berlinguer, è una parola un po' abusata. Che vuol dire autonomia? Vuol dire che la scuola di Milano Centro avrà caratteristiche diverse da quella di Mazzara del Vallo e che la scuola di Scampia avrà probabilmente bisogno di cose diverse di quelle di cui ha bisogno la scuola del centro abitato di Trieste. L'autonomia significa levare, togliere, eliminare il potere alle circolari ministeriali che in uno stretto burocratese decidono il futuro dei ragazzi e chiedere alle scuole di aprirsi, di aprirsi al territorio, di aprirsi alle realtà culturali. Ah ma questo è svendere ai privati? Ma che privati? Ma che privati? Non cambia niente per il consiglio di istituto. Il consiglio di istituto è il soggetto che decide il progetto dell'offerta formativa, il consiglio di istituto discute dalla linea di come si deve comportare la scuola. Ah ma questo trasforma i presidi in degli sceriffi. Chiaro che il preside ha delle responsabilità in più, ma non può, non farà mai lo sceriffo. Sarà il responsabile di una comunità insieme al consiglio di istituto, al collegio dei docenti, alle famiglie. La scuola non è mia, la scuola non è del governo, la scuola non è dei sindacati, la scuola non è degli addetti ai lavori. La scuola è il luogo nel quale riparte la crescita di un paese. Ecco perché ci vuole l'autonomia e dobbiamo far sì che ciascuno di questi ragazzi, ciascuno di questi nostri allievi possa finalmente avere il coraggio e la possibilità di giocarsi le proprie carte sapendo che non tutti i territori hanno le stesse esigenze e bisogni.